Ma questa parte non c'è nessuno Ognuno si sa chiamare Ma io ve lo so Ragazzi, se lo vediamo Per tagliarcela Per tagliarcela Per tagliarcela Per tagliarcela Che cosa? Bella Perfetto si banca sicuri Ahhh No, no, no No, no, no 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 Salutate la madre Salute la madre Allora, ti facciamo fare No, non te è caro A foto, a foto! Un ticca! Un ticca! Sì, il Brazilian. I Donnyl- nih получается ma non si potremmo parlare Ne mancavi comunque! Fotografanti! Fotografanti e riempie! Martina? Oh no, che c'è? Grazie. 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 Grazie.